Amici, Rudizio Herbie ha 20 anni identico Wax ecco qual è la reazione dei fan. Da quando è iniziato Amici 22, Rudizio Herbie continua a mettere alla prova uno dei talenti più chiacchierati di questa edizione. Wax. Tra il professore e l'alunno non scorre buon sangue e le acque sono quasi sempre agitate. Ma a quanto pare li unisce una forte somiglianza. Infatti, durante la puntata del serale di sabato scorso. La cantante Arisa ha mostrato la foto di Rudizio Herbie da ragazzo ed è apparsa subito una notevole somiglianza con il cantante Wax. Che non è passata inosservata a Maria De Filippi. Wax è identico a Rudi da ragazzo, ha detto la conduttrice. H2 Rudizio Herbie e Wax, la somiglianza a H2. La fotografia ha mostrato una notevole somiglianza tra Rudizio Herbie da ragazzo e Wax. E moltissimi sono stati i commenti da parte dei follower sui social. Ora si scopre che Wax è il figlio illegittimo di Serbi di cui non sapeva nulla. Farei l'esame del DNA, ha scritto un altro utente. E ancora, davvero impressionante. Sono identici. Una somiglianza che potrebbe placare gli animi ma è troppo presto per dirlo. Quale altra discussione ci riserveranno Rudi e Wax nella prossima puntata? Non ci resta che aspettare il prossimo guanto di sfida per l'allievo. Grazie le intru' geanta si pleaca, grabește-te ca trenul asta nu așteapta. Dar eu știu deja ca vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina ca lumea e a ta. Și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum că nu.